Ciao ragazzi, sono tornati a un nuovo video Luca oggi cercherà di arrivare a 3.000 coppe Di nuovo, di nuovo, sempre di nuovo E io almeno a 3.500 coppe Guardate il suo profilo Allora, vi ricordo che ha Blue Stars Di entrare nel nostro team Il nostro team è team aperta parentesi quadra king Con la k grande e chiusa parentesi grande Fallo a vedere Fallo a vedere Come vedete, io sarò il terzo più forte Luca è il quarto più forte Ciao Leo Io gli richiedo l'amicizia E li guardo anche Non so Cosa è l'account di Leo? C'è Leo che era dove è? Sì, è quello Sì, è quello Sì, è quello Perché lui mi ha detto che lo sceglie 1039 E io sceglie a livello 5 della livella Perché lui mi ha detto No, quanti costi fatti con lui c'è Mettico E' vero, con un cellulo E lui quanti costi fatti? 485 Ecco, ovviamente lui lo sceglie Ok, Luca, metti pronta Hai usato pocio? Sì Lo so usare A me fa davvero movitare Inizio Adesso sta giocando a Edo Sbaglia Oh, vi siete uccisi da sole No, io l'ho ucciso Perché mia madre ancora No, di nuovo Però questa volta Non è morto Sì Anche io Luca, usa corvo dopo Perché se non ha tenuto la sua mossa La mossa di Pai che è fortissima Prendetele già M Vai via Ah, vabbè Ho perso 4 gemelli E dobbiamo andare a prenderne Oh, occhio Spike Dovete soltanto uccidere Sì, è vero Dovete uccidere Spike e basta È lui che ne ha 12 È camperato Sì, è vero le copie jump and drop sono più forte io di loro c'è lui c'è lui c'è lui ci sta male ciao oh ma sono straforti what the fuck what the fuck eh ciao so che forse ne ho ucciso uno forse no no sì sì no l'avevo qui e tutti i sucelli ce li ha tutti i sucelli stiamo perdendo troppe coppe leo è cresciato no ok no 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 siamo ancora in cinque no 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 aiuto con il robot aiuto aiuto no 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 passi per la buzza se lo fai vabbè stai con le tisi vabbè è impossibile a ver Qualcuno che cambie evento Tommi stasera vieni al parco della memoria? Forse Aspetta 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 Leo, non gioca più? Vabbè, metti sopravvivente Ok, dico la verità E lo sai che te ne fai una E lo odio la mamma La stessa situazione E lo farò che non è molto tranquillo E corri veloce E allora, perfetto Mamm, fai gacca Sì, vabbè, com'è Qua, qua, qua? Ciao! Sosa! Ciao! Gioca ancora! Gioca ancora! Ok! 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 Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. A che ore vengo? A casa tua. Mamà, a che ore inizia il parco della memoria? Otto e mezza. Vieni da me alle otto e venti. L'abbiamo persa troppe di coppe, troppe, troppe, troppe. È vero, dobbiamo rifarci. Vieni, vieni, vieni. Mamà, guarda il libretto. Quello di Don Bosco. Che la prof mi ha scritto qualcosa perché non vado il pomeriggio. No, io ho ucciso nel primo. Io ho ucciso nel primo e un cazzo mi ha ucciso. Mamma mia, che fonte? Chi l'hai fatto? Quante, quante, quante? Di sopra dormire. No, io ho ucciso nel primo. Io ho ucciso nel primo. come salva? mamma mia! edo grande! come salva? edo ma tu uccidi il primo con te? ho deciso il prossimo settimana è l'ultima ma guarda davanti come dice però fino al calor inizia poi usciva alle 4 e mezzo? allora non ci rende va bene si mamma si va che musica mi sento la storia e poi c'è anche Paolo metti leon perchè metti il dinamike? metti leon io metto un blocco in scherzo così ho messo brock no scendimi e tu non devi più saltare dal divano mi senti? c'è rabbia siamo qui potrai volare la prossima settimana ti ho fatto la sua bicicletta ti ho fatto una ora? io dana mai che lo so usare benissi ciao 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 ehi, ciao nooo, quattro c'è qua meno velo, gesta gesta la cesta, gesta io, lui, ciao Tommy Tommy, Edo dobbiamo giocare bene, dai io usa gesta Edo, ti permette di farlo con me non so, non ho detto un po' no, 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 non ho detto un po' dai, che ho poca vita c'è una cinque ma ho poca vita non parlando di stecca scusami scusami no, non ho detto no, non ho detto che ho? adesso dobbiamo andare bene cambia blower l'immediata e uso lei oh un po' un po' oh un po' un po' un po' oh beh se non avremmo disfattato di quei giochi adesso sarebbe proprio finito il video non ho detto no, non ho detto vengo da te Luca dai cazzo no, prendi Luca prendi 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 sono il pomeriggio non lo so no, ma io vado in bici aspetta che allora chiedo che guardo che orari che fanno vieni Artù, vieni tu hai visto una mosca e io adesso la cazzo fuori non ho detto non ho detto con le mosche dai non ho detto 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 scappa 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 vieni a giocare la clash termina sì 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 è